Buongiorno, come fare per vedere se la riparazione è ok, se è buono, sapere se è buono, fare così, così, e va, è buono. Questo è il momento della giornata che mi piace di più. Tutti sono più tranquilli, la gente è andata via, anche il sole non c'è più, più freddo. Io penso alla gara, alle linee del percorso. Due giorni prima della gara faccio sempre, di solito, due o tre giri, così, e studio le linee, tutto, provo anche le gomme, la forcella e la bici. E questo è molto importante per me, perché dopo sono anche più tranquillo. Anche un giorno prima provo ancora due giri, più o meno, anche uno. Parlo dopo anche con il meccanico, sistemare tutto perfetto. Quando ero piccolo volevo sempre una squadra come la Bianche, Absalon, Ermida, sono stati sempre i miei inviti, loro sono stati in bianchi. Siamo anche come una famiglia, scherziamo, però quando c'è la gara siamo con la testa lì. Quella cosa che non deve mancare mai è la felicità. Mi piace tantissimo. Ho spero di fare una buona gara. Ho spero di fare una buona gara. Ho spero di fare una bessa gara. Ho spero di fare una bessa. La mountain bike è una cosa bellissima, anche mi chiedono se vai su strada, io dico sempre il mio cuore è lì con la mountain bike, però è importante sempre la testa, se la testa non va, anche se hai le gambe super non conta così, con la 29 vai giù sopra i sassi, anche in salita, quest'anno mi trovo molto bene. Da un anno e mezzo ormai è andata una gara così bene come questa oggi, e per quello sono molto contento, molto molto. Il vecchio Gary è tornato. La bianca in Italia è la migliore, penso, sicuro. Grazie. Grazie.